Qual nodo la Lega staccherà la spina? Ecco io però ho una domanda adesso perché fino a prima di andare al governo Movimento 5 Stelle e Lega parlavano tanto dell'Ital Exit eccetera mentre è da un bel po' di tempo ormai che i media mainstream ma anche il Movimento 5 Stelle e la Lega stessa hanno bandito il dibattito sull'Ital Exit manco fosse un tema illegale Stanno aspettando questi partiti che l'Euro imploda per cause esterne così per evitare anche lo sporco lavoro dell'Ital Exit o l'hanno metabolizzato e accettato completamente con una giravolta evidentemente? Marco Mori La battaglia all'Euro era soltanto un modo per prendere consenso elettorale Tutto qua era semplicemente una facciata a aumentare il consenso e poi questo consenso andava disattivato Nulla di nuovo, nulla di sorprendente L'inversione a U della Lega era annunciata da tempo Era ovvia, era scontata La Lega è un partito liberista Quindi un partito liberista è un partito per definizione favorevole all'Unione Europea favorevole agli interessi del potere economico internazionale Chiarissimo E parlate di un problema interno nella Lega Non esiste problema interno Io quando parlai i tempi con Claudio Borghi Quando mi chiese fondamentalmente di entrare con loro E diventare responsabile economico per la regione Liguria E glielo dissi chiaro Ma Claudio tu sei minoranza o maggioranza in Lega? E lui mi rispose che era netta minoranza Non c'è proprio partita I sovranisti sono entrati in Lega Qualche sovranista è entrato in Lega perché è stato utilizzato È stato usato per ovviamente attirare consenso Ma tutto qui il resto del partito è una solita cloaca liberista E purtroppo la Lega è una grandissima sciagura per il paese Se non ce ne liberiamo siamo spacciati Il disegno si compierà L'euro non sta per implodere L'austerità era un mezzo per raggiungere un fine E stanno raggiungendo il fine Attraverso poi l'eliminazione dell'austerità Ci convinceranno le ultime cessioni di sovranità È tutto totalmente chiaro Come replica Amodeo? Allora c'è una grossa differenza che bisogna fare Tra la base di questi partiti e del Movimento 5 Stelle Quindi la base della Lega e del Movimento 5 Stelle E i leader E soprattutto nel caso del Movimento 5 Stelle Del direttorio che risponde a un gruppo di comunicazione Che è geniale Ma che è tarato ed efficace È solo su quelli che io chiamo i pasdaran del Movimento Quindi su tutti gli altri Su chi ha senso critico Ed una propria autonomia decisionale Tante scelte vengono oggi viste come un vero e proprio tradimento Il gruppo di comunicazione sa che può fare quello che vuole Imporre misure impensabili per i 5 Stelle della prima ora E associarlo sempre alla parola strategia Quindi per prendere tempo Fino a quando la rana nella pentola d'acqua fredda Surriscaldata lentamente va poi a bollire Lo abbiamo visto per esempio con l'Euro Non pensate che la base del Movimento 5 Stelle Quindi gli attivisti, quelli dei meet up Quelli che fanno i banchetti per strada Siano a favore dell'Euro Perché seguono me e me ne rendo conto Sono estremamente contrari all'Euro Ma non si rendono conto di essere all'interno di un movimento Che invece fondamentalmente è europeista nella maniera più assoluta Quindi assolutamente sempre stato pro-Euro Ma questo la base non lo sa Quindi bisogna avere verso la base un approccio meno aggressivo Bisogna realmente tendergli la mano E piano piano insieme a loro fare merito delle incongruenze Che un direttorio che ripeto risponde a un gruppo di comunicazioni Che ha idee diametralmente opposte a quello della base Voi ricorderete che con la questione dell'Euro Hanno cominciato dicendo che bisognava fare un referendum Quindi bisognava aspettare di arrivare in Parlamento Dopo che sono arrivati in Parlamento Hanno detto che bisognava aspettare di andare al governo Oggi hanno smesso di parlarne E dicono che è una strategia per aspettare che l'Euro imploda E vale del genere Una disamina molto interessante Lo scollamento tra la base e i vertici Il direttorio Tra l'altro vedevo durante la disamina Dei cenni di assenso da parte di Mori Sì sì, è chiaro Cos'è il 5 Stelle, come funziona Quali sono le dinamiche interne Sono note Quindi annuivo perché ero perfettamente d'accordo Ecco, quindi c'è uno scollamento tra la base Tra il popolo e i vertici Mentre ritornando comunque sulla Lega Quali sono invece Stavamo parlando poco fa Quali sono le problematiche Ci sono problematiche analoghe Intendo tra la base e i vertici Amodeo No, con la Lega il discorso è diverso Rispetto a quanto abbiamo detto con il 5 Stelle Nel 5 Stelle c'è uno scollamento tra i leader Il gruppo di comunicazione e la base originaria Mentre all'interno della Lega c'è uno scollamento All'interno dei leader stessi Quindi la spaccatura è interna al gruppo dirigente Dove c'è la vecchia Lega che vorrebbe Semplicemente l'autonomia delle regioni del Nord Per avvicinarle ai nostri carnefici Ossia alle regioni della Francia e della Germania Con quel progetto che si chiama di macro regione alpina Che è stato sottoscritto anche da Zaia Quindi è la fine in quel caso del sovranismo in Italia C'è la possibilità di rendere autonome delle regioni E avvicinarle con una regione alpina Alle regioni della Baviera e della Francia Quindi in quel caso il braccio di ferro è tutto interno E poi c'è quel gruppo invece che fa capo a Borghi Verso il quale continuo ad avere qualche speranza Che invece non ha al momento margini di manovra E si trova schiacciato all'interno del suo partito Da quello che adesso è l'ala maggioritaria Che è quella assolutamente europeista Pro euro Una disabilità molto interessante Quella di Amodeo effettivamente Io ho anche una terza via Cioè secondo me l'anti-europeismo È un fenomeno che si sta allargando Tra la popolazione italiana Di conseguenza la fine dell'Europa È una cosa certa Naturalmente non so la data e l'ora Però è una cosa certa E comunque sarà fondamentale Vedere come si concluderà la Brexit Perché nel caso Boris Johnson Arrivi a quella che viene denominata Hard Brexit Cioè la fine della Brexit senza un accordo E allora lì si aprono degli scenari C'è una terza via assolutamente Infatti è evocato proprio Johnson Ma qui siamo in una domanda successiva E quindi questa Non sapevo di aver bruciato No no ma dopo Questo merita un approfondimento assolutamente C'è un approfondimento assolutamente